SIGEP 2020 siamo allo stand di Caffè Toraldo, la torrefazione napoletana che ha 50 anni di storia e siamo in compagnia di Marco Simonetti e il responsabile OCS per l'Italia Simone Di Bartolomeo, benvenuto Simone Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti Cominciamo da Marco, quali sono le novità presentate qui a SIGEP 2020? Le novità sono soprattutto in ambito OCS, abbiamo la nuova miscela cremosa in cialde che va ad arricchire la gamma già presentata nelle altre fiere di cialde e capsule una miscela appunto dal nome molto cremosa, molto forte, è stata richiesta particolarmente in tutta Italia e su cui ci abbiamo lavorato un bel po' per cercare di conferire a un caffè cremoso e forte comunque un retrogusto amabile quindi non aggressivo come spesso accade nelle miscele particolarmente cremose Inoltre abbiamo presentato anche dei nuovi compatibili di cui magari vi parlerà il buon Simone che completano appunto la gamma dei nostri monoporzionati Ma prima di passare a Simone parliamo anche delle miscele in grani che avete presentato qui a Rimini per il comparto bar-caffetteria Sì, le miscele bar, come ben sai il bar è il nostro forte abbiamo ripresentato la miscela Origini che è una miscela che sta andando veramente molto bene stiamo vendendo in Italia ma è particolarmente bene all'estero la miscela 95% arabica, 5% robusta che si chiama Origini perché ripercorre appunto le nostre origini in cui abbiamo rinchiuso anni e anni di esperienza e le migliori origini che abbiamo utilizzato appunto in questi anni è composta da 6 origini 5 origini arabiche, un'origine robusta, java che è un caffè particolarmente dolce e aromatico un caffè comunque da provare quindi vi invito poi ad assaggiarlo nei nostri bar e a degustarlo e a farci sapere cosa ne pensate anche attraverso i nostri social, attraverso i nostri canali è un caffè che io dico fa leccare i baffi ma dovete provarlo voi che siete dall'altra parte è il momento dunque di Simone Simone per te è un esordio dinanzi alle telecamere di OreccaTV.it buongiorno, benvenuto e nel frattempo lancio immediatamente la prima domanda da quanto tempo sei nel settore e ti occupi di OCS? Allora sono all'interno del settore da circa 4 anni prima con un'esperienza maturata con una mia azienda di rivendita per poi da circa 18 mesi sono subentrato all'interno dell'azienda Caffè Toraldo prima sul Napoli e provincia poi in tutta la Campania adesso cerchiamo di trovare nuovi clienti su tutto il territorio nazionale hai raccolto una sfida importantissima perché passare da una regione a 20 regioni su tutto il territorio nazionale ti farà naturalmente viaggiare, conoscere nuove persone nuovi contatti, nuove presentazioni di prodotti in una gamma che è sempre più completa Sì, una gamma sempre più completa diciamo ci sono sempre nuove sfide sono accompagnato dal titolare Marco che mi sta dando una grande mano e una grossa opportunità in questa nuova strada abbiamo cercato di man mano cerchiamo di ampliare tutta la gamma prodotti per accogliere tutte le esigenze dei clienti le novità che abbiamo presentato a decorrere dal nuovo anno sono la Capsula compatibile Lavazza Blu Capsula compatibile Caff Italy Capsula compatibile Bialetti e Capsula compatibile Uno System che vanno agli altri quattro sistemi che sono nel Scaffè Dolce Gusto a modo mio, nel Espresso ed Espresso Point a completare una gamma che diventa sempre più ricca Ti vedo pronto, carico, preparato, determinato ad aggredire il mercato quanto è stato importante per voi avere una campagna di comunicazione televisiva che ha fiancheggiato di fatto anche l'operato della rete vendita? Sicuramente la comunicazione ci aiuta e ci aiuterà tantissimo per arrivare al cliente finale e per far sì che si creano richieste da parte dell'utente finale accompagnate comunque da quelli che sono già i nostri clienti che credono e crederanno nel nostro progetto al di là di quello che è la comunicazione ma solo e semplicemente per la qualità di Caffè Toraldo Simone, infine per chiunque desideri avere maggiori informazioni rispetto ai prodotti in monoporzione OCS, cialde o capsule come si voglia dire qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno proprio per richiedere maggiori informazioni diventare rivenditori e chissà diventare anche vostri clienti Ci sono due mail a cui possono rivolgersi che sono info-caffettoraldo.it oppure clienti-caffettoraldo.it a cui possono mandare richiesta di prodotto per qualunque settore vogliano ricoprire e poi le richieste verranno girate dalla persona addetta ad un operatore che sicuramente farà in modo di seguirli alla grande Grazie per il contributo Simone Grazie Marco Grazie a voi sempre Speriamo di incontrarci alla prossima fiera